Il Festival di Sanremo regala ogni anno una settimana di intrattenimento, scambio di opinioni, polemiche e musica agli italiani chiusi in casa per l'inverno. La gestione Amadeus ha rinnovato l'interesse dei giovani verso una tradizione consolidata, che non sempre aveva saputo intercettare i gusti delle nuove generazioni, insegnando che quando una competizione inizia ad avere una storia lunga alle spalle, bisognerebbe trovare di volta in volta il giusto compromesso tra il rispetto della formula vincente e il coraggio di stare al passo coi tempi. Ma ci fu un tempo in cui Sanremo non esisteva, in cui si dovette decidere di creare un festival della canzone italiana. Oggi ci spostiamo nel 1951, alla scoperta di come nacque il primo festival di Sanremo. Nel 1951 l'Italia soffriva ancora per le conseguenze della guerra ed era un paese povero, caratterizzato dall'attività agricola. Si contavano circa 4 milioni di analfabeti, molti meno diplomati e laureati e anche il tasso di disoccupazione era elevato. Un motivo di tensione sociale riguardava le proteste dei contadini poveri, che a fine anni 40 avevano iniziato ad occupare i terreni di varie regioni, chiedendo la terra a chi la lavora. Inoltre, il gennaio del 1951 fu particolarmente acceso, a causa delle proteste in piazza organizzate dagli oppositori di Asienauer, generale americano appena nominato presidente della Nato, inviato in Italia per discutere del riarmo dell'Europa. Le automobili erano un lusso per pochi e il grande mezzo di trasporto del tempo era la bicicletta, come testimone il film di Vittorio De Sica, L'agri di biciclette. Sempre nel gennaio 1951 veniva introdotta la riforma Vanoni, introducendo l'obbligo della presentazione annuale dei redditi da parte dei contribuenti. Non c'era la televisione e l'intrattenimento del popolo era costituito da attività semplici, come le partite a carte in osteria, il cinema e soprattutto la radio, già diffusa da decenni. Ed è proprio la radio che il 29 gennaio 1951 si poteva ascoltare un particolare spettacolo trasmesso in diretta dal Salone delle Feste del Casinò di Sanremo, la Città dei Fiori. Il progetto per il Casinò risaliva il 1903, in un periodo in cui la città godeva dell'essere diventato un punto di riferimento per il turismo. La realizzazione fu rapida e il Casinò aprì nel 1905. Nel 1928 iniziò una lunga fase di splendore, arrestatasi nel 1940 a causa della guerra. Nel 1945 ci si pose il problema di come riavviare l'attività del Casinò. Così l'amministrazione del Comitato di Liberazione Nazionale della Città riunì una commissione di esperti per consultarsi a riguardo. La commissione era presieduta dal sindaco Adolfo Siffredi e suddivisa in tre aree di interesse, legale, amministrativa e tecnico-artistica. Dopo la prima riunione si decise di programmare eventi che riguardassero il gioco e in aggiunta organizzare una scaletta che rendesse il Casinò un luogo di eventi culturali. Di quest'ultimo aspetto si occupava Milcare Rambaldi, un fioraio socialista che prese a cuore l'idea e avanzò diverse proposte culturali, tra cui un ipotetico festival della canzone internazionale, previsto già per il 1946, un anno dopo. Dopo qualche tempo l'amministrazione decise di affidare il Casinò a dei privati e buona parte delle proposte di Rambaldi venne scartata, tra cui quella del festival. Rambaldi rimase molto deluso, ma nel 1947 fece la conoscenza di Angelo Nizza, nominato all'ufficio stampa e manifestazioni del Casinò. Le idee di Rambaldi fecero leva su di lui e vennero avanzate al proprietario del Casinò. A quel punto si iniziarono a inviare diverse raccomandate alla RAI, fase in cui ebbe un ruolo cruciale il dirigente dell'ente radiofonico di Stato di Torino, Giulio Razzi. Razzi contattò le case discografiche, concepì dettagli della competizione e ancora oggi viene ricordato come l'elemento chiave che rese possibile la prima edizione del Festival di Sanremo. Qualche giorno prima della data prefissata, il Radio Corriere recitava. Una nuova iniziativa, volta a valorizzare la canzone italiana, è stata recentemente promossa dalla RAI e avrà, questa settimana, la sua realizzazione conclusiva. L'intento principale è quello di promuovere un elevamento nel campo della musica leggere italiana, compatibilmente con i presupposti popolari propri del genere in se stesso, ma in maniera da colmare le sensibili manchevolezze che vi si riscontrano oggi e da soddisfare le sia pure elementari esigenze estetiche che anche la canzone, in quanto espressione musicale, propone. Signori e signore, benvenuti al Casinò di Sanremo per un'eccezionale serata organizzata dalla RAI, una serata della canzone con l'orchestra di Cinico Angelini. Premieremo tra le 240 composizioni inviate da altrettanti autori italiani la più bella canzone dell'anno. Le 20 canzoni prescelte vi saranno presentate in due serate e saranno cantate da Nilla Pizzi ed Achille Togliani con il due vocale fasano. Queste furono le parole d'apertura pronunciate dal presentatore Nunzio Filogamo. Il pubblico era seduto ai tavoli del Casinò, come nei Caffè Shantan, e non era molto numeroso, al punto che per la seconda serata bisogna impegnarsi per trovare gente disposta ad occupare i posti rimasti liberi ai tavoli. Anche la critica musicale non era molto interessata all'evento e il vero target risultò essere il pubblico radiofonico, comunque non troppo numeroso. La competizione era strutturata in modo da coprire tre serate. Durante ognuna delle prime due il pubblico avrebbe ascoltato dieci canzoni in gara, la terza sarebbe servita per decretare la canzone vincitrice. Inoltre, a differenza di oggi, non c'era un artista per ogni brano, ma solamente tre figure del mondo della musica italiana che avrebbero interpretato le venti canzoni, dividendosi i compiti. La scelta ricadde su milla pizzi, il duo Fasano e Achille Toiani. Toiani era un attore di prosa che nel 1944 aveva esordito come cantante, diventando sempre più conosciuto grazie alle sue esibizioni radiofoniche e ai gossip riguardanti Sofia Loren. Il duo Fasano era composto da due gemelle, Dina e Delfina Fasano, scoperte nel 1940 dal maestro Carlo Prato, il quale le aveva convinte a darsi al canto nonostante la loro iniziale riluttanza. E infine, Nilla Pizzi, che dopo l'esordio nel 1940 era stata ingaggiata dal lente radiofonico, licenziata perché troppo sensuale, nuovamente assunta e diventata una cantante di successo. Quest'ultima vinse il primo festival, col brano Grazie dei Fiori, e divenne definitivamente un'icona della musica italiana. Si trattava di una canzone d'amore tradizionale, ma anche amara e disincantata, in linea con i temi dell'incomunicabilità e del male di vivere che ad esempio Michelangelo Antonioni cominciava ad affrontare. Il brano era meno popolare degli altri e alludeva un ambiente borghese e pervaso dalla noia. Probabilmente la ragione della vittoria di una canzone così atipica fu la partecipazione di una giuria e un pubblico ancora ristretti, che non rispecchiavano pienamente i gusti del grande pubblico. Il ridotto impatto mediatico di questa prima edizione del festival potrebbe farci pensare che fosse priva di malcontenti e gaff, ma così non fu. Al momento della vittoria ci si rese conto di non avere preparato un mazzo di fiori per la vincitrice. Si rimediò con dei garofani di fortuna, trovati all'ultimo istante, dimenticanza che sviliva la fama di Città dei Fiori. Inoltre, sempre durante la premiazione della canzone vincitrice, il conduttore chiamò sul palco Seracini, maestro musicale che aveva composto Grazie dei Fiori. Nessuno si presentò e dopo attimi di agitazione il maestro Angelini dovette prendere il microfono e rivelare. Il maestro Seracini non c'è, non verrà. Ha composto questa canzone poco dopo essere improvvisamente diventato cieco. Nonostante queste disattenzioni, nonostante la scarsa retribuzione di Nilla Pizzi, nonostante le vendite del disco di Grazie dei Fiori migliori delle altre canzoni in gara, ma comunque non eccessive per i tempi, Sanremo 1951 fu abbastanza fortunato da permettere una seconda edizione l'anno seguente. In prospettiva, Nilla Pizzi diventò sempre più celebrata come icona del festival, guadagnandosi titoli come regina della musica italiana. Grazie dei Fiori fu la prima di una lunga serie di canzoni vincitrici, ricordata ancora oggi quando si ripercorrono le tappe della storia del festival. La storia di Sanremo è ancora lunga e il 1951 segnò solamente il primo passo verso l'affermarsi di un moderno fenomeno di costume italiano. Se vuoi conoscere altre tappe della storia del festival, iscriviti al canale, seguici su Instagram e rimani aggiornato sui prossimi video.